800 tratleti, arbitri ed ufficiali di campo che si sono sfidati in tre giorni intensi di partite e divertimento con oltre 70 match, si è conclusa con numeri record nel giorno di Pasqua la 36esima edizione del torneo di pallacanestro giovanile Guido Guidelli. L'evento, come ormai consuetudine, non è stato però solo basket giocato in senso stretto, il momento principale della manifestazione è stata infatti la serata di premiazione con tutti i partecipanti e i loro accompagnatori presenti al Palasport Estra. Per il secondo anno consecutivo, ad attirare le attenzioni del pubblico, è stata la squadra del Tam Tam, promotrice di una lunga e dura lotta su diritti sportivi dei cittadini stranieri residenti in Italia, ottenendo un grandissimo risultato etico e politico. Questa opportuna è una zona un po' particolare, c'è un grande degrado, un po' troppo sociale e anche urbanistico, è un territorio lungo di 27 chilometri, un litorale lunghissimo, i ragazzi non hanno mezzi per poter spostarsi l'uno a trovare l'altro, quindi la palestra è diventata un luogo d'incontro, una piazza in cui incontrarsi e confrontarsi, quindi, come torno a ripetere, Tam Tam per loro è una grande opportunità di stare insieme e di crescere insieme. La SBA si è fatta portavoce di una sensibilizzazione anche economica in favore di questi ragazzi, consegnando un contributo direttamente a Massimo Antonelli, ex giocatore di Serie A, promotore del progetto Tam Tam. Passando al basket giocato, il trofeo Guidelli, categoria Under-14, è stato conquistato dall'Ordenzo Basket, che ha vissato così il successo ottenuto nel 2016 nella categoria Under-12. Nell'Under-13 il successo è stato invece del basket Brescia-Leonessa, ed infine, per quanto riguarda l'Under-12, al termine di una vincentissima finale, la vittoria è andata alla polisportiva Masi Casalecchio di Reno. Ottimi risultati anche per le squadre della Scuola Basket-Arezzo, con un terzo posto per l'Under-12 Nova Verta, positive anche le esperienze della Galvar Under-14, giunta al settimo posto, e delle due squadre Hotel Planet Under-13.